Allora, che devo dire? Noi abbiamo una situazione politica che è allucinante e Bossi non sta più bene e purtroppo gli astem coi, però io voglio dire perché non si parla male di Napoli, no! Borghezio ha preso il posto di Bossi, Borghezio è uno della Lega, pensate una volta ed è vero una volta stava nel treno, c'erano tre ragazzi di colore, lui prese il dedorante dove erano seduti e lo spruzzò con sdegno, dopo circa due anni lo stesso Borghezio a Piazza D'Umo è stato picchiato allora io vorrei dire una cosa, basta, basta con questa violenza gratuita, si va giù, non vanno pavate Alessandro! Alessandro! Ma che? Somma! Sto facendo un spettacolo! Guardate, vi sei fatto tardi, devi venire a mangiare! Sto facendo un spettacolo! E lo finisci dopo lo spettacolo, ora devi mangiare, ti ho preparato pasta e patate! Ma a me mi piace pasta e patate! Vuoi fare una cosa? Oggi ti mangi le patate! E' di mano? Ma basta! A quanto? Dopo domani! Mi chiamate mamma! Sono trent'anni che andavo a imparare che non mi piace pasta e patate! Sì è perché, sono trent'anni che fai il catechismo e ancora devi fare la prima comunione! Padre Enrico ha detto che ti interroga sull'ultima cena! No! L'ultima cena è un forte mio! È vero? Allora facciamo una cosa! Guardami negli occhi e me la dici! Che vuoi sapere? L'ultima cena? Padre! Allora! Sì! 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 Scusate, non ci vuole dire, ma veramente che tu andavo, non ci vuole solamente nominare.